Sì, bene, 112 o femmine ragazzi, anno 2010 e terza possibilità, sono in partenza della batteria numero 26, France Sì, bene, 112 o maschi, corsia 1 aampene a tre a partire a sport, corsia 2 aumene a colore da sport, corsia 3 aizzo e tornando a farrama presenti, corsia 4 aаю five, sono in montagna di conllevare contro kita, corsia 6 aizzo e avendo amici del mondo 30. Grazie a tutti.